Urban Nature è un po' come essere gipsi, trasformare ogni luogo del mondo nella tua casa, nella tua cucina. E Gypsy in the Kitchen è il blog che il mio compagno Alessandro e io abbiamo creato per poter raccontare la nostra vita, i nostri viaggi e le nostre storie. È un modo per poter condividere una filosofia. Grazie a tutti.